Non capisco cosa lo guardi a fare. Zitto che sta parlando adesso, ma io. Ma cosa lo scordi tanto? Uniterà un'altra volta di essere nominati a te. Ok, meno questa, fammela vedere. Intanto però non ce l'ho neanche invitato e dobbiamo guardarcelo da te. Sì, mi fa bene, però almeno questo. Guarda, Lumination. No, io non sto zitto, va bene? Guarda, ci prende anche in giro, che visto questo oggetto, eh? Che hai visto? Nonostante tu abbia guardato il video 394 volte, direi che non è cambiato molto, ma magari vuoi vederlo a 395. Parliamo di cose serie invece, tu hai visto prima gli ultimi giorni. Ah, ecco, deve essere lui. Da quando gli abbiamo fatto dire a Yves che continua a fare questa scenetta. Ma che diavolo, cos'è questo? È l'Oscar per il video film. Ma, ma com'è possibile? Beh, diciamo che io alla presentazione ci sono andato e, dato che non ce l'hanno data loro, quella sono presa io. Sei un grande gris! Sei un grande gris! Ma, cos'è sto solo? Eh, ho detto che l'ho presa. Non che nessuno mi ha visto mentre lo faceva. Cosa? Sei un grande gris! Ah, finora la fai! Eh, ciao a tutti ragazzi, volevamo ricavzarvi per averci fatto vincere e, diciamo, procurato l'Oscar. Eh, però mi sa che per un po' non produrremo altri film. Quindi per Pespa Assassini mi sa che dovrete aspettare l'uscita di prigioni. Facciamo tutti i saluti del carcero. Anche a tutti. Grazie a tutti.